Siracusa, la troupe cinematografica di Taviani torna in Ortigia lunedì e martedì di Vieti in via Roma. Lunedì e martedì prossimi, 17 e 18 maggio, la troupe cinematografica diretta dal regista Paolo Taviani tornerà a Siracusa per girare altre scene del film Leonora a Dio. Le riprese saranno effettuate in via Roma e per tale ragione il Servizio a Viabilità del Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità ha emesso un'ordinanza con la quale dalle 11 alle 18 delle due giornate proibisce la sosta e impone l'eventuale rimozione dei mezzi lungo 100 metri di strada all'altezza del civico 124. Inoltre, per il solo 18 maggio, dalle 7 alle 18, i mezzi interessati alle riprese sono autorizzati a sostare in Piazzetta San Rocco e Largo a Retusa. La troupe di Paolo Taviani aveva già girato in Ortigia altre scene del film nello scorso mese di ottobre.